capitolo ottavo 10 agosto il sole levandosi splendeva sulla terrazza rivolta est della casa del conte garrolo ed ampia era la veduta da quel punto verso levante il mare e le vaste distese della piana verso occidente le lunghe catene di montagne in successione con ardore bombile e con degli anni e chiara nell'azzurra lontananza sulle colline gerace erede della vecchia locri e al giorno d'oggi sottintendenza o residenza del vice governatore provinciale e capo distretto l'attivo conte rapidamente ci ha portati in giro per tutta la città nelle chiese al castello per i viottoli ci ha mostrato i paesaggi i muri le città i villaggi i manoscritti le scuderie i due muli e la sella in velluto rosso e la gualdrappa con le corone e garrolo 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 tutto 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 ci ha affidati a un contadino perché ci facesse vedere una scorciatoia per ardore ha stretto la mano quindici volte a ciascuno di noi ed è corso via con una velocità forse nata scrivere alcuni pensieri poetici dare ordini alla servitù questi due domestici come dovevano lavorare vendere un cavallo comprare grano cogliere fiori consolare la contessa addio 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 conte garrolo un allegro compiacente piccolo uomo e il più comico dei conti creati in tutto il mondo una larga vallata è interposta fra la sommità di bovalino e ardore ardore era chiamata dice pacichelli odore per i suoi molti fiori e fra piacevoli sentieri siamo discesi a dei bellissimi vigneti campi di grano turco e fichi dove la nostra guida paesana ci ha caricati di frutta e ci ha lasciati abbiamo deciso di non entrare nella città di ardore dato che non aveva un particolare interesse esteriore a vedere tutte le città di calabria avrebbe preso molto tempo così salendo per la collina dove è situata abbiamo attraversato una stretta cima e siamo discesi ancora una volta al mare un grande tratto coltivato adesso ci separava da gerace sita sul suo incantevole colle verso mezzogiorno ci siamo riparati in un'osteria strada facendo per cercare ombra e meloni di acqua potete comprare tre più grandi per due grani e mezzo continuando a camminare faticosamente lungo la larga polverosa strada abbiamo oltrepassato con due anni alla nostra sinistra apparentemente molto pittoresca e subito dopo siamo arrivati a torre di gerace una isolata torre del medioevo situata al margine della costa nel luogo dove gli archeologi riconoscono con certezza il sito di locris antica fondamenta di costruzioni antiche si estendono per un vasto raggio nei vigneti intorno e innumerevoli monete vi sono state ritrovate molto bella è quella grigia torre situata tutta sola sopra la rocca vicino alle onde blu con lo sfondo della graziosa collina di gerace e di molte linee di montagne alte distanti attorno ai piedi della torre locrese e dappertutto all'intorno della spiaggia sabbiosa crescono in abbondanza amarilli bianchi che riempiono l'aria con il loro delicato profumo all'uno e mezza abbiamo lasciato la spiaggia e siamo subito arrivati alla larga fiumara il fiume merico che scorre sotto gerace l'abbiamo attraversato e così abbiamo incominciato la lunga salita che porta a questo grande pittoresco luogo dove siamo arrivati alle quattro e mezza pomeridiane gerace una delle tre sottintendenze in cui la calabria ulteriore prima è divisa è una larga città vescovile piena di palazzi bellamente situati posta su uno stretto margine di roccia ogni parte sembra che sia stata pericolosamente afflitta da terremoti spaccature lesioni orribili voraggini campanili stabili e pendenti appaiono dappertutto verso nord ovest la puntita roccia finisce bruscamente in un precipizio che da tre lati è perfettamente perpendicolare qui sono le oscure e sgretolate rovine di un massiccio castello normanno da cui attraverso un passaggio irregolare si può raggiungere la sottostante vallata ma tutte le altre parti della città sono accessibili solo da due sinuose strade a levante che forniscono un accesso meno ripido la grande altura su cui questo paese è situato dal suo isolamento domina una delle più estese vedute di un carattere spettacolare verso il mare confina con roccella a nord e capo bruzzano a sud mentre all'interno la catena di montagne verso ovest è interessante in maniera sublime infatti gerace è di gran lunga il più grandioso e superbo luogo come posizione generale e come città che noi abbiamo finora visto in calabria il consigliere il consigliere denava ci aveva dato una lettera per don pasquale scaglione che abita una delle più grandi case in città dalle cui finestre si domina la vista del mare orientale don pasquale una premurosa e compita persona ci ha accolti caldamente e dopo aver avuto offerti i soldi neve e vino ed essere stati sistemati comodamente con acqua da bere e una mezz'ora di sonno ci siamo seduti davanti a una cena sebbene la loro fosse già finita da un bel pezzo niente poteva essere meglio dell'ospitale accoglienza dataci da questa famiglia che mi ricorda più quella abruzzese che la calabrese vista finora dopo cena siamo andati al pericoloso precipizio del castello che incombe magnificamente nella sua decadenza ma il vento che anche nelle giornate chiare è notevole era troppo forte per permetterci di segnare tranquillamente così abbiamo passato la serata a casa conversando con queste nuove conoscenze 11 agosto al mattino presto abbiamo girovagato in città lungo la salita della marina disegnando fino alle 11 meravigliati dai tanti panorami che si presentavano da ogni lato ogni roccia santuario o palazzo a gerace sembravano sistemati e colorati apposta per gli artisti e l'unione delle linee realizzate dalla natura e dall'arte era semplicemente deliziosa circa i costumi sembra che vi sia ben poco a parte il fatto che tutte le donne vestono di nero e portano la sottana fuori dal loro vestito girato a metà sopra la loro testa come quelle di civile castellana negli stati romani alle 12 abbiamo pranzato a casa scaglione questa è una famiglia distinta e piacevole in tutti i sensi sebbene vi siano certe abitudini calabresi meno raffinate di quelle delle province del nord fra le famiglie della stessa classe donna peppina scaglione la moglie del fratello maggiore è molto carina di apparenza signorile e di maniere veramente squisite poi vi sono i fratelli don nicola e don gaetano il canonico e don abennate prete a stilo che era ospite a casa e il piccolo don cicillo l'erede di 5 o 6 anni un originale piccolo calabrese pieno di brio e divertente il loro pranzo consisteva in zuppa pesce carne bollita e fritta e patate il tutto semplice ed eccellente dopo pranzo il cui ultimo atto è stato quello di gustare diversi bicchieri di un vecchio vino molto stimato dai calabresi e chiamato vino greco siamo passati nel grande salone del palazzo la cui vista dal lato est è splendida qui don pasquale ci ha mostrato una grande collezione di monete locresi siracusane e romane trovate nelle vicinanze dopodiché il nostro bravo ospite ci ha sacrificati leggendoci ad alta voce capitolo per capitolo un libro che stava scrivendo sull'ocri un opus magnum che per quanto molto erudito era abbastanza noioso tutti i nostri suggerimenti di andare a riposare erano vani così probbi si è addormentato e io ero sul punto di seguire il suo esempio stavo per scusarmi per andare a letto quando il nostro autore si mise a sbadigliare fece una pausa e cadde nelle braccia nelle braccia sonnolenti di morfeo così che l'assemblea letteraria si sciolse nemine contraddicente dopo la sesta abbiamo ancora disegnato il tocco bello di gerace e il suo ammirevole colore il bianco o delicato bigio delle rocce scoscese il colore grigio degli edifici che contrasta magnificamente con il polpore delle montagne ritornando all'ave maria e prendendo gelati in un caffè abbiamo incontrato il medico che avevamo visto a sant'agata di bianco la baronessa franco era morta il mattino della nostra partenza dalla loro casa così ora abbiamo compreso veramente il triste silenzio della famiglia consapevole della sua agonia ma ansiosa di farci capire che non era una scusa per liberarsi di noi ceniamo con la famiglia scaglione persone veramente molto simpatiche ed essendo mercoledì gamberi e arancini di riso erano all'ordine del giorno